Talsano-Taranto, via Vasari, è qui l'inferno, una zona completamente abbandonata, priva di pubblica illuminazione, senza asfalto, completamente sterrata. Definir la periferia è un complimento per le periferie più degradate. I furti abbondano, gli abitanti della zona si sono rivolti numerosissime volte al sindaco Stefano. C'è un'ordinanza prefettizia che impone l'illuminazione della strada, il rifacimento della strada, per ragioni di ordine pubblico, innanzitutto di sicurezza, ma nulla. Abbiamo l'esperienza di una signora, la signora? Frascella Pasqua. La signora Pasqua, lei si è rivolta, mi diceva, al sindaco Stefano. Con quali esiti? Abbiamo avuto anche degli incontri con Stefano, con la signora Nunzella, abbiamo portato la documentazione, e ci sono persino le fotografie di casa mia, quando sono venuti i ladri, che non si poteva proprio entrare dentro. E lui le ha volute da mettere nel fascicolo. Dice, non vi preoccupate. Quanto tempo fa? Saranno un paio d'anni, no, sono due anni fa. Precisamente. Gli anni passano, i genitori invecchiano e i bimbi crescono. E la strada via Vassare rimane abbandonata. Questo è successo due anni fa a casa mia, ma però ci sono anche altri episodi. Due anni fa, tre anni fa. Vari? Sì, tutti che sono venuti in casa. In che c'è stato? Perché non c'è luce, non c'è, che devo dire. La zona chiaramente è priva del minimo della sicurezza. Ci aiutiamo fra di noi, la signora giustamente che ha il marito allettato, come abbiamo detto prima, se ci chiama che deve arrivare l'autobulanza, a parte che vediamo che le autobulanze sono un po' restie a voler fare la strada. In una zona così abbandonata. Noi che dobbiamo andare a casa della signora per portarle un po' di aiuto, di conforto, non lo so, non possiamo nemmeno camminare perché abbiamo paura, ci portiamo la lampadina tascabile perché con le buche a nostra volta avremo bisogno delle autobulanze. Ok, e allora la domanda è questa, scusate ma il prefetto nel momento in cui ha emesso un'ordinanza, ha dato delle disposizioni, le ha date per gioco e l'amministrazione comunale può permettersi il lusso di disattenderle? All'amministrazione Stefano la risposta noi attendiamo, ma penso ormai siamo a fine mandato. Chissà che la prossima amministrazione dia qualche risposta, di qualunque colore essa sia, l'importante è che ai cittadini venga restituita la dignità di essere abitanti di Taranto, perché qui, in queste condizioni, scusatelo, neanche le bestie vengono trattate così.